rispondo ad una gentile richiesta i carrellini di era sono stati quattro il primo carrellino di era è un carrello della medic vet paraplegico deambulante cioè questo lo stesso carrello ha accompagnato era nella nell'evoluzione della sua malattia perché quando si è paralizzata completamente nel treno posteriore ho potuto montarle i pedali che le permettessero di fare della fisioterapia passiva e mantenere del tono muscolare più tempo possibile ed è così quando si ventilava l'ipotesi che stesse diventando tetrapregica le comprai un carrello mclaren mclaren che è questo ma per lei non era adatto ed adeguato così presi il tetraplegico sempre della medic vet che è quello che vedete in questi video su tiktok che praticamente stanno accompagnando gli ultimi non lo so mesi o cosa saranno di era lo utilizziamo comunque già più di un anno dunque i carrellini medic vet il paraplegico deambulante mi ha costato 890 euro il mclaren 500 euro mentre il tetraplegico della medic vet mi ha costato 700 euro spero di aver risposto alla domanda in quattro anni di mielopatia degenerativa ho potuto seguirla importante io abitando a genova ho potuto portarla a nuotare con salvagenti e imbragature al mare e al fiume anche d'inverno spero di essere stata utile ciao